Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio subito aggiornarvi con la situazione di LUNK cioè Luna Classic perché Binance 14 ore fa ha pubblicato sul suo blog un articolo inerente al burn di LUNK sul proprio exchange quindi voglio subito aggiornarvi perché questa notizia è davvero importantissima per vedere poi la reazione del prezzo di LUNK positiva, reazione positiva in futuro dettoci adesso iniziamo subito con questo video e restate fino alla fine perché vi spiego tutto passo dopo passo però cosa importantissima lasciate un mi piace per supportarmi per far sì che questo video venga visto da più persone possibili e se non siete iscritti iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi e attivate anche la campanella per ricevere le notifiche adesso iniziamo subito e passiamo un attimo a CoinGeek perché tramite CoinGeek vediamo LUNK a che posizione si trova in questo momento è al numero 35 e dal punto di vista del prezzo siamo in un downtrend molto marcato vediamo anche una diminuzione nei volumi scambiati nelle ultime 24 ore vediamo soprattutto anche la capitalizzazione di mercato che sta scendendo questo perché? Perché è avvenuto un forte ribasso nel mondo cripto lo vediamo anche sul grafico qui abbiamo rimbalzato spesso su questo supporto e precisamente il 15 settembre di nuovo l'abbiamo toccato ieri l'ha bucato però il prezzo non è riuscito a scendere qui sotto e mi aspetto che se il prezzo dovesse di nuovo ritoccare questo supporto se c'è forza bearish anche i volumi sono in decrescita possiamo assolutamente bucarlo e riscendere questa purtroppo ripeto ancora non è una bella notizia per il prezzo di LUNK però in questo video voglio soffermarmi sulle belle notizie perché ci sono e sono venuto direttamente da parte di Binance perché ieri è stato pubblicato questo posto su Binance blog quindi è un post ufficiale da parte di Binance perché durante l'email fatta a CZ spesso la community di LUNK ha chiesto del coin burn e lui finalmente ha risposto ha risposto già durante l'email però un minuto, un minuto e mezzo infatti ha creato questo articolo in cui spiega tutto con calma e fa capire per bene la community dove siamo diretti tramite CryptoValuta.it se ne ha fatto una traduzione di questo articolo spiegando anche quali sono i passaggi e come è scritto qui finalmente Binance si arrende e decide di implementare un complesso sistema che potrebbe integrare il burn da 1,2% anche sulle transazioni interne perché per chi non lo sapesse c'è questa lotta diciamo tra le transazioni interne dell'exchange transazioni che vengono on chain sulla blockchain di LUNK vedere diciamo le transazioni bruciate interne all'exchange stesso e parliamo di Binance che ha dei volumi assurdi potrebbe essere molto molto positivo per il prezzo di LUNK non sto dicendo che sicuramente LUNK adesso esplode perché nessuno può saperlo sicuramente diventa più deflazionistico più LUNK vengono bruciati e meglio è per il prezzo in futuro anche se vi ricordo che la capitalizzazione di mercato è di 6 trilioni che è vastissima e ci vorrebbe un coin burn davvero massiccio però se Binance inizia a fare ciò e anche gli altri exchange sicuramente il prezzo ne gioverà non in questo momento che vediamo un downtrend quindi voglio farvi capire che dovete pensarla a lungo termine fare zoom out e capire ancora che c'è possibilità di vedere un cambio però ci vuole tempo detto ciò passiamo al dunque al fulcro del video e state attenti perché voglio spiegarvelo con calma leggendo anche qui in pratica ci saranno tre fasi proposte da Binance e da CZ passiamo alla prima fase ed è semplicissimo in pratica verrà attivato un tasto un bottone sull'exchange che possiamo selezionare per approvare il burn da 1,2% su ogni transazione anche quelle interne a Binance attenzione in questa fase almeno il 25% di chi detiene LUNK dovrà esprimersi a favore seconda fase dopo che almeno il 25% di chi detiene LUNK si esprime a favore quindi clicca sul pulsante e vota si vedrà effettivamente poi sottrarre l'1,2% anche per le transazioni interne un sistema che può favorire l'adesione libera all'eventuale burn quindi anche chi non vuole far bruciare le proprie coin internamente a Binance può decidere di non farlo però quel 25% che decide di farlo si vedrà sottrarre le transazioni interne a Binance terza fase si dovrà raggiungere il 50% con la fase 2 per vederla implementata in questo caso la tassa verrebbe applicata a tutti indistintamente quindi questa sarebbe una rivoluzione la terza fase potrebbe davvero rivoluzionare il prezzo di LUNK e ci vuole tempo ragazzi e vi sto parlando di un mese perché se leggiamo in basso vediamo che la deadline è stata messa ad un mese quindi se entro un mese queste fasi vengono rispettate da parte degli utenti se avvengono queste cose sicuramente avverrà questo coin burn interno a Binance e il prezzo ne risentirà quindi vi dico di tenere duro mi aspetto forse una ripresa del prezzo di LUNK improvvisa chissà potrebbe accadere nel caso vi aggiorno sempre su questo mio canale quindi per questo vi invito a seguirmi perché appena posso vi aggiorno anche se è sabato oppure domenica non so ragazzi bisogna vedere che succede molte persone stanno lamentando perché dicono che Binance si sia lavata le mani che non voglia fare nulla però penso che sia un'ottima opportunità perché se realmente la comunità di LUNK vuole vedere il prezzo di LUNK esplodere e diventare deflazionistico vuole vedere la riduzione della circulating supply c'è bisogno che le persone accettino anche io accetterò LUNK su Binance e di conseguenza se tutti accettiamo vedremo questa riduzione dell'1.2% detto ciò ragazzi date un'occhiata anche al canale di Universo Crypto ETF dico questo perché spesso vi abbiamo predetto il crollo di Bitcoin il crollo di Ethereum il crollo del mercato azionario vi spieghiamo anche i motivi per cui sarebbe potuto succedere è uscito un video due giorni fa sette giorni fa il canale lo trovate anche nella pagina principale del mio canale dategli assolutamente un'occhiata si chiama Universo Crypto RTF date un'occhiata anche alla sezione di copy trading di BitGet già ne ho parlato spesso vi permette di fare copy trading in automatico senza fare nulla il video qui in basso in descrizione vi spiego come utilizzare la piattaforma investo anche un capitale per farvi vedere che si guadagna e soprattutto anche il bonus di Body Bank il bonus di Streetbit di Young Platform 10 euro dategli un'occhiata assolutamente per supportarmi noi ci vediamo domani con la prossima avventura anzi lunedì sicuramente domani è pausa grazie mille a tutti per la visione di questo video se vi è piaciuto un mi piace se non siete iscritti iscrivetevi a presto ragazzi ciao a tutti